Ma a che punta sono le indagini su quei due polizioti che hanno picchiato quel ragazzo a Napoli qualche settimana fa? Guardi, noi abbiamo, al di là delle indagini che non ci appartengono, abbiamo intrapreso un'azione disciplinare e come ha anticipato il questore non saremo assolutamente teneri, perché io vedendo le immagini ho provato un senso di grandissimo amarezza, di grandissimo sconforto sia per la brutalità delle immagini, la gratuità di alcune affermazioni e anche di una violenza assolutamente non giustificata non saremo teneri e non faremo sconti.